Volevo fare un po' una riflessione con voi sulla bioetica e il counseling filosofico. Perché ha anche a che fare con il counseling filosofico e la bioetica? Un po' di cose già le abbiamo dette. Sicuramente la bioetica ha intercettato fin dalla sua origine dei cambiamenti sociali importanti e delle trasformazioni dell'esperienza e questo secondo me è quello che deve fare anche un counselor filosofico. Essere sul pezzo dentro il qui e ora, dentro il momento storico proprio perché appunto ci potremmo trovare ad affrontare delle questioni talmente nuove che ci interrogano anche dal punto di vista. Poi è anche un lavoro secondo me interessante da fare con un consultante laddove ci vengono proposti temi di questo tipo. Appunto a me era stato proposto questo tema di una relazione virtuale proprio avvenuta tra due persone, una relazione che potrei dire amorosa e questo aveva a che fare con la possibilità di chat, di spazi virtuali per il confronto, di contatti H24 anche uno da una parte del mondo uno dall'altra, no? Resi possibili dalla tecnologia. Questa è una trasformazione delle esperienze ed è una trasformazione dell'esperienza che se ai tempi di Potter si declinava in un certo modo, adesso si decline in un altro. Però è una domanda che noi secondo me inevitabilmente dobbiamo porci, no? E capire un po' quello che ci sta attorno, cosa sta cambiando, cosa sta succedendo e anche i cambiamenti sociali. E quindi, cioè, anche nella formazione del counselor filosofico, secondo me è sempre molto importante trattare questi temi, parlarli insieme, condividere, proprio perché ci aiuta, aiuta molto noi nella nostra professione, proprio non perdere mai di vista il contesto, così come la bioetica, perché la bioetica è impossibile pensarla fuori da un contesto, sia dal suo contesto storico, dal contesto in cui è nata, dal contesto in cui ragiona e anche dal singolo contesto del singolo paziente, perché poi è vero che i medici, i clinici hanno il codice di comportamento, però poi le situazioni sono valutabili esclusivamente nel qui e ora. Anche il tema dell'eutanasia, del suicidio assistito, no? Perché anche tanti casi che poi il rischio è che la legge si faccia dai casi, no? Poi come vedremo, magari ne vediamo uno assieme, perché non c'è una riflessione che va di pari passo alle esigenze e poi manca anche la parte legislativa, perché poi, cioè, certe cose si possono fare se si possono fare per legge, cioè non c'è niente da dove possa stare qui a ragionare tutto il tempo che vogliamo, ma poi se non è consentito, non è consentito, punto, no? Poi, punto, poi tutti i vari tentativi e le varie richieste che si fanno, il referendum, eccetera, eccetera, sono volti a cambiare qualcosa e a colmare questi vuoti legislativi, però poi la bioetica ha anche fatto in modo di ripensare a certe convinzioni, a certi criteri, proprio criteri che noi ci portiamo dietro, perché poi questa è una cosa che secondo me abbiamo un po' tutti, no? Anche se siamo più tecnici e più filosofi di altri, anche se detto così non è non è bello, no? Però, cioè, abbiamo una capacità magari di ragionamento su certe cose più sviluppata, perché magari trattiamo di filosofia quasi quotidianamente, però inevitabilmente, lo vedevamo anche un po' prima nella supervisione casi, abbiamo già dei nostri concetti preformati, no? In testa ed è sempre molto difficile riuscire a scalfirli e a provare a romperli un po', no? Anche per venire incontro magari alle richieste dei nostri consultanti, però io credo sia un nostro dovere farlo, no? Per essere il più oggettivi possibile, è un'impresa molto difficile, perché appunto anche la bioetica fin dalle sue origini si è trovata a rompere in qualche modo una tradizione, se vogliamo, no? Ha dovuto ripensare anche dei valori e così, secondo me, inevitabilmente dobbiamo fare anche noi counselor quando siamo chiamati a nuove riflessioni o a qualcosa, anche magari non nuove riflessioni, ma a un qualcosa che rompe un po' con i nostri schemi, no? E ereditati anche culturalmente, non solo dai nostri studi, perché poi quello comunque è tanto radicato in noi, no? A prescindere anche dalla nostra preparazione. La bioetica è stata anche in grado, comunque, ha provato fin dalle sue origini a fornire nuovi strumenti concettuali, no? E così anche il counselor, secondo me, come dicevamo prima, provare a ragionare con i nostri consultanti dando loro nuovi strumenti, no? Perché solo magari guardando le cose da una prospettiva diversa si riescono a comprendere meglio. E poi la bioetica, come il counseling filosofico, ha a che fare con la complessità, a mio avviso, perché come abbiamo visto e come già ci diceva Potter, nel momento in cui entriamo nell'ottica che la bioetica non è una questione privata, ma pubblica, si aprono inevitabilmente tutti questi piani che abbiamo visto, no? Quindi quello etico della domanda etica stretta, antropologico, ripensamento dell'uomo, vedremo, no? Dopo ho messo un piccolo indice di varie questioni che possono emergere con, ad esempio, procreazione medicalmente assistita o direttive anticipate, dichiarazioni come le vogliamo anche amare, diciamo, obbligano a una sorta di ripensamento proprio dell'uomo, no? Proprio la domanda sull'uomo, quello che diceva l'artista all'inizio, no? Perché le trasformazioni dell'esperienza cambiano davvero anche delle immagini che noi abbiamo più standardizzate, più standard, più comuni o più culturali dell'uomo. Se pensiamo, dopo lo vediamo un attimo, le tecniche di procreazione medicalmente assistita, in senso descrittivo, non valutativo, non sto dicendo è bene o male, però obbligano inevitabilmente a pensare alla nascita, all'origine, alla relazione, alla coppia, economica, no? E si aprono, si apre una complessità infinita di piani, no? Quindi antropologico sicuramente, giuridico abbiamo visto perché politico, sociale, sociosanitario, le questioni bioetiche hanno sempre a che fare con qualcosa di pubblico che attiene anche all'allocazione delle risorse, l'abbiamo visto con John Mayers e con questioni proprio strettamente economiche e fa emergere categorie filosofiche, no? La bioetica è il tema della responsabilità, il principio responsabilità, Jonas, anche se volete andare a leggere, oltre che tecnica medicina e etica di Jonas, il principio responsabilità, un po' una riflessione su questo perché inevitabilmente già dalla riflessione di Potter il tema della responsabilità è un tema che si apre, no? Abbiamo anche una responsabilità sul nostro pianeta, per esempio, per il nostro pianeta, no? Non solo per l'altro da noi, no? Per l'uomo, ma per l'intero ecosistema. Testamento biologico, no? Anche lì, testamento biologico, forse ne avevamo anche parlato con Cattorini, no? Che si diceva, però, cioè, testamento biologico, quando è che faccio testamento? Io faccio testamento, sì, d'accordo, prima di morire, però poi muoio, ma do disposizioni per altri, non per me, no? Nel testamento biologico do disposizioni su di me, è diverso, no? Quindi anche l'utilizzo del termine testamento, perché poi tutti questi termini che veicola un certo tipo di pensiero e di studio, perché nazcono da persone che fanno riflessioni di bioetica, però poi hanno inevitabilmente un risvolto pubblico, quindi poi sulla persona che va a votare al referendum, cioè deve, cioè passa un certo termine, che come impatto soggettivo può avere una direzione, una direttività nella scelta in un senso o in un altro. Però è fondamentale capirle, le questioni, no? Spesso mi chiedono anche i corsi, eh, ma come si fa? Eh, cercare di informarsi. Poi si apre il tema dell'etica dell'informazione, però dove mi informo? Per cui io credo che contesti come il nostro siano fondamentali per discutere proprio anche insieme, per creare un lessico comune e per capire perché usiamo determinate parole e che cosa vogliono dire, no? Però, allora, magari lo approfondiamo la prossima volta, però tipo il tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento apre, secondo me, tantissime questioni che hanno a che fare anche con il counseling filosofico, per esempio il tema della visione del mondo, no? Eh, cioè ad esempio le dat sono revocabili perché io le scrivo magari oggi e fra cinque anni decido di cambiarle. Perché? Perché magari cambia la mia visione del mondo, perché magari c'è l'esperienza della malattia che è cambiata o che è mutata, che, no? Tutto questo ha a che fare con la nostra visione del mondo, no? Perché noi cambiamo, come ben sappiamo, nel tempo cambiamo di fronte ad esempio una malattia. Poi ci sono tra l'altro due livelli di dichiarazioni anticipate di trattamento che a me piace sempre chiarire perché ci sono le dichiarazioni anticipate di trattamento che noi possiamo sottoscrivere oggi, qui e ora, sani, diciamo, forse, come dice il professor Berra, che siamo comunque mai totalmente sani. No, però, cioè tipo, senza avere avuto una diagnosi di una malattia specifica, le possiamo sottoscrivere nel qui e ora e ovviamente possiamo dare delle indicazioni molto ampie. Perché, cioè, io qui oggi cos'è che potrei scrivere? Non voglio essere attaccato al respiratore, voglio che, non voglio essere alimentato, idratato, però, cioè, sono cose generiche, no? Io non posso prevedere tutto quello che mi potrebbe capitare e per cui io potrei avere il tempo, potrei scrivere delle dichiarazioni anticipate di trattamento, no? Punto uno. Punto due, invece, sono le dichiarazioni anticipate di trattamento che uno può scrivere nel momento in cui ha avuto una diagnosi di una patologia specifica. Allora sono diverse, perché io inserirò delle indicazioni diverse nelle mie dichiarazioni, nelle mie direttive. Cioè, io so che malattia ho, dovrei aver avuto un colloquio con il medico che mi ha dettagliatamente informato come un senso informato prescrive e allora sono in grado di, sapendo cosa prevederà il percorso terapeutico, sono in grado di dare delle indicazioni più precise. Quindi, cioè, ci sono due piani, no? Di scrittura delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Nel primo caso, soprattutto, ma no, forse no, in entrambi, in realtà, c'è sempre il tema del cambiamento. Cioè, nel senso, io posso cambiare da oggi a quando ho avuto una diagnosi di malattia, quando ho avuto la diagnosi, posso pensare che per me la vita lì sia finita e posso dire, no, anche, cioè, non faccio neanche l'intervento per rimuovere il tumore perché voglio morire così, ma poi cambiare e capire, no? Di aver cambiato appunto una visione del mondo perché sono cambiate determinate cose e quindi posso revocarle. Però, cioè, sono temi immensi, soprattutto anche per noi counselor filosofici. Cioè, a noi come filosofi pratici, come counselor filosofici, è richiesto un riorientamento continuo, no? Dei nostri punti di vista e delle nostre visioni del mondo, proprio in relazione ai cambiamenti sociali a cui assistiamo e che vediamo. Abbiamo visto proprio come la bioetica rimette in discussione i due limiti della nostra esistenza, la nascita e morte, perché abbiamo visto l'esempio della procreazione medicalmente assistita, quindi ripensamento dell'origine e la morte col tema fine vita e dichiarazione anticipata di trattamento sono rimesse totalmente in discussione in quest'ambito e quindi un ripensamento, una discussione nuova anche dell'immagine dell'uomo. E inevitabilmente io ritengo che ogni professionista, come noi, anche un counselor filosofico, ma chiunque voglia occuparsi di bioetica debba per forza confrontarsi con delle istanze più profonde che non possono essere ridotte alla teontologia professionale, all'etica clinica, che sono comunque questioni di bioetica clinica, assolutamente, però ci sono istanze filosofiche veramente molto profonde che sono aperte dalla bioetica e penso in contesti come il vostro sia molto utile riflettere. La ringrazio intanto, ma tutta la questione che dice, la questione terminologica è proprio anche provocatore in questo senso, per quello dicevo è fondamentale anche accordarsi su che cosa intendiamo per questo, anche perché se non lo facciamo in queste sedi, poi il rischio è che l'utente finale, qualunque cittadino che poi è chiamato a votare per il referendum, appunto parlare di fine vita, io ai miei corsi agli operatori spiego che il fine vita non è la morte, che ci sono, quando si parla di fine vita è la morte legata alle questioni cliniche, cioè la morte ospedalizzata ma clinicizzata e soprattutto con la visione della morte modificata da strumenti come il testamento biologico, perché magari fine vita immediatamente si pensa alla morte in generale, oppure dichiarazioni direttive, le vedremo quando faremo la lezione specifica su quello, perché a seconda di come io le chiamo ha una valenza diversa e soprattutto anche nel dibattito pubblico, nell'opinione pubblica, nell'idea che poi io mi faccio di quella cosa lì, è fondamentale, fondamentale e poi sì certo è difficile essere questo ponte, però io credo che davvero la bioetica chiami un po' tutti a fare questo, è una sfida bella. Sono molto felice di poter partecipare al suo corso, è molto interessata, molto coinvolta, perché le questioni bioetiche attraversano su vari piani il mio lavoro che è composito, mi occupo di adozioni internazionali, quindi spesso le coppie che arrivano hanno attraversato dei percorsi di fecondazione medicalmente assistita e quando arrivano hanno alle spalle spesso, spessissimo un fallimento. Ho comunque una riflessione importante, perché qualora anche fosse andata a buon fine una fecondazione medicalmente assistita, se la scelta di accogliere un secondo genito li porta ad investire sull'adozione internazionale, è perché c'è stata una riflessione importante, per cui è molto importante per me accogliere con rispetto quelle che sono le strade intraprese, le situazioni puntate, il bambino atteso che spesso troppo si porta attraversano il bambino attraversano le strade di accogliere, quindi la strade di accogliere, è molto importante per me accogliere, è molto importante per me accogliere, è molto importante per me accogliere, Grazie a tutti.